E ora Budiaschi, sinistro ancora, è pro e bravo, Julio Cesar Camerini recupera, prova al destro, Pantanelli Due contro due, Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo, azione personale, sinistro la parata di Calderoni Avanza Masiello sulla sinistra, il tiro improvviso da 35 metri, la grande risposta di Abbiati Pallone dentro per Rattadei, traversone, arriva per Ratta Frey, miracoloso intervento di Frey I think it should be funny, uh oh, to take your girl, spend a bit of your cash for me Cos then she might be happy No longer lonely, uh oh, and I could take her out the next day for pretty much free Cos then she might be happy 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 Cos then she might be happy